Bentornati, regie orrorifiche e dove trovarle. Oggi parliamo di una questione che è sempre molto molto dibattuta nell'ambito dell'opera lirica, e non solo, ma in particolare dell'opera lirica, e poi vedremo perché. Cioè l'attualizzazione del regio, ossia quando un'opera lirica che è stata scritta, diciamo, nell'Ottocento o nel primo Novecento, o addirittura in certi casi a fine Settecento, viene attualizzata e vengono messi all'interno della scena situazioni, personaggi o oggetti, o addirittura ambiti storici, che non c'entra assolutamente nulla di nulla di nulla con quello che c'è scritto sulla partitura e quello che aveva pensato il compositore e tanto meno librettista. La questione potrebbe riguardare il teatro in generale. Se io metto in scena un'opera di Pirandello e decido di ambientarla su Marte nel 2147, perché nessuno, come dire, se ne scandalizzerà e invece se faccio un'opera dell'Ottocento, un'opera di Verdi, Macbeth e lo ambiento nella Germania nazista, la cosa crea problemi? Fondamentalmente per due ragioni. La prima ragione è che c'è la musica e la musica comunque comporta una serie di azioni e una serie di suggestioni che sono molto più facili da evitare, da circumnavigare se si tratta solo di prosa. Tenete poi presente che molte volte agli spettacoli di prosa si mette anche un pochettino mano al testo, molte volte quelle frasi si cambiano, si modifiche, cosa che nell'opera ovviamente non è possibile fare. Poi l'altra questione è la questione del pubblico. Il pubblico dell'opera mediamente è un pubblico molto tradizionalista, in massima parte fatto da persone non più teenager, come dire, e queste persone hanno nella loro testa, nella loro mente, un'idea di quell'opera fatta in quella maniera e se gli si propone un qualcosa, come dire, che sposta loro i punti di riferimento, questa cosa li manda in confusione. Sono partito dalla questione di Veronesi che dirige Bendato, ne avete sicuramente sentito parlare, insomma se ne è parlato sui giornali, su internet, credo anche a te giornali addirittura. La questione qual è, Veronesi, protestando palesamente contro la regia, ha deciso di dirigere Bendato perché ha detto per non voglio vedere questo scempio, questa cosa orrenda, eccetera, eccetera. Allora il problema è di fare una cosa del genere, qual è? Che tu nel momento in cui critichi la regia, critichi implicitamente anche chi la regia è la scelta, cioè la direzione artistica. A me in tanti anni è successo di protestare solo due cantanti, di protestare vuol dire licenziare. Teoricamente il direttore d'orchestra ha il potere di licenziare un cantante che non ritiene all'altezza del ruolo che deve cantare, però deve anche stare molto attento il direttore d'orchestra. Perché? Perché una volta il cantante era scelto dal direttore d'orchestra, nei tempi di Toscanini e anche insomma poco poco dopo, ogni cantante era scelto dal direttore d'orchestra, che gli facevamo un'audizione e quindi dicevo, ok, tu canti questo, canti questo, canti quell'altro. Per cui una volta che si iniziava le prove, o c'erano veramente gli iscrizzi personali, o il direttore d'orchestra non si sarebbe mai sognato di licenziare un cantante che aveva scelto lui. Negli ultimi decenni invece il direttore d'orchestra non sceglie più un tubo. I cantanti sono scelti dalla direzione artistica e quindi nel momento in cui io licenzio un cantante e soprattutto lo licenzio perché lo ritengo assolutamente inadeguato a quel ruolo, implicitamente sto criticando chi quel cantante l'ha scelto, cioè la direzione artistica che ha scelto anche me. Per cui come potete immaginare un direttore artistico non è contentissimo che un direttore d'orchestra ancorché abbia il potere di farlo gli licenzi un cantante, perché gli si sta dicendo in altre parole tu hai scelto uno che non era in grado di fare quest'opera, quindi tu fondamentalmente non capisci un tubo. E ovviamente questa cosa non ti mette in grande simpatia del direttore artistico e probabilmente la prossima volta non ti chiamerà più a dirigere. Per cui Veronesi quando si mette a criticare la regia ovviamente critica chi la regia l'ha scelta, cioè la direzione artistica. La questione si risolve con il licenziamento di Veronesi. Tra l'altro con un cavillo contrattuale sembra che sia arrivato in leggero ritardo alla prova e vabbè sono quei cavilli a cui se uno si vuole attaccare lo può fare. In realtà la questione è più complessa. Cioè Veronesi non era tanto in polemica contro l'ambientazione sessantottina dell'opera quanto con un'ostentazione di simboli di una certa sinistra nei confronti della quale Veronesi non si sente particolarmente affine. Per cui dice questa è una dittatura culturale e anzi essendo poi Veronesi non so se candidato comunque vicino a Fratelli d'Italia quando poi è stato licenziato ho detto ecco hanno fatto un'epulazione politica siccome non la penso come vogliono loro mi hanno licenziato. Ora non entro nel merito della questione non ho idea di come andrà a finire e francamente mi interessa anche relativamente poco. Di queste dinamiche nel mondo dell'opera lirica succedono e soprattutto quando poi si trimballa la politica è facilissimo che si venga alle mani se non fisicamente almeno legalmente. Ma quello di cui mi interessa parlare non è assolutamente la questione politica ma la questione della regia. Io di per sé non sono contrario all'attualizzazione delle regie. Ho diretto in prima persona tanti allestimenti di opere in cui la regia era stata modernizzata e funzionava particolarmente bene. Ricordo proprio una bohème ambientata alla fine degli anni 50 che avevo trovato deliziosa anche se i protagonisti erano vestiti in maniera diversa da come uno si immaginerebbe la bohème anche se avevano le chitarre elettriche e così tipo Buddy Holly e cose del genere ma francamente la cosa l'avevo trovata anche ben fatta. Quindi non sono di quelli che si attacca e dice ah no che scherzi non si può modernizzare non si può decontestualizzare un'opera rispetto alla sua origine naturale cioè a quell'origine a cui hanno pensato il librettista e ovviamente il compositore. Allora cominciamo a dire che la regia teatrale in generale e in particolare nell'opera lirica è una questione abbastanza recente. Diciamo che se la regia teatrale in generale è un'attività recente perché generalmente prima non c'era una regia c'era nelle varie forme teatrali quindi non solo nell'opera lirica la figura del capo comico che dava fondamentalmente l'indicazione di Massimo tu entri da qui, tu fai questo, tu sei affranto tu guardi al cielo eccetera eccetera quindi il capo comico senza saperlo faceva anche da regista. Andando avanti si è arrivati a una specializzazione del ruolo del regista e quindi prima nella prosa e poi nella lirica sono arrivati anche i registi professionisti. L'avvento quindi dei registi ha posto una serie di questioni e di problemi sin dall'inizio perché? Da dove venivano questi registi? Fondamentalmente venivano dalla prosa e fondamentalmente non avevano per niente esperienza né conoscenza di opera lirica per cui cosa succedeva? Che trattavano e lavoravano quei cantanti come trattavano e avevano lavorato con gli attori. Il cantante lirico però al netto di alcune paturnie e di alcuni atteggiamenti in certi casi da divi che non trovano altrettanta corrispondenza nella prosa se non rari casi il cantante dicevo ha anche comunque una serie di necessità oltre alle paturnie e quindi molte volte succedeva e succede ancora oggi che un regista chieda a un cantante una cosa che non è funzionale ad esempio cantare sdraiati ci sono i cantanti che lo sanno fare ma mediamente un cantante lirico avrà difficoltà a cantare sdraiato oppure molte volte ci sono dei problemi acustici se soprattutto in un teatro molto grande con un grande organico orchestrale sotto quindi che fa una massa sonora io registro a piazzo il cantante in fondo nell'angolo a 30 metri in fondo al palco perché secondo me è giusto perché simbolegge l'allontanamento dal mondo e il suo avvicinimento verso la morte e qualunque altra cosa che io voglio rappresentare mettendolo là non tengo conto del fatto che il cantante là in fondo probabilmente non si sentirà i cantanti d'opera non sono amplificati generalmente questa cosa non è un problema perché la tecnica del canto lirico consente tranquillamente di passare come si dice in gergo d'orchestra però anche una voce importante una voce molto sonora potrebbe avere problemi a passare l'orchestra se la piazzo 30 metri dopo l'orchestra ma per tornare alla mia opinione personale per quello che può valere come dicevo prima io non sono contrario alla modernizzazione in sé sono contrario alla modernizzazione e a qualunque elemento scenico o di movimento che sia in contrasto con la logica dell'opera e la logica del libretto prima di parlarvi di questo vi racconto insomma di quelle frasi che gira nel mondo teatrale che prima dell'avvento dei registi i cantanti lì ci avevano solo tre domande arrivavano nella prova e chiedevano da dove entro? dove esco? dove muoio? risolti questi tre problemi la regia era fatta ma torniamo alla necessità che la regia faccia quello che c'è scritto sulla partitura o quantomeno non faccia niente in contrasto con quello che c'è scritto sulla partitura proprio perché come ho detto prima nell'opera lirica non c'era la figura del regista i compositori partendo veramente da Rossini che dava delle indicazioni di massima poi andando avanti con Donizetti con Verdi hanno sempre scritto sulla partitura quali erano i movimenti scenici cioè si diceva tizio entra da qui vede Caio accasciato per terra se ne spaventa scorre via scappa oppure lo aggredisce con insomma quindi vengono date le indicazioni di quello che doveva fare il cantante mentre cantava o molto più frequentemente prima di cantare o dopo o dopo cantare perché quello è il problema anche della regia ci sono alcuni tipi di stili di canto in particolare il bel canto che caratteristica ha il bel canto? che scopo della rappresentazione non è la credibilità scenica ma la bellezza di quello che si canta il bel canto il bel cantare per cui classica cosa che succedeva nelle opere di quel tempo che so due lanti stando per combattere arriva lì incrocia le spade dopodiché uno si ferma e canta sei minuti di aria piena di vocalizzi e di virtuosismi scenicamente questa cosa ovviamente non esiste ma non ha importanza perché per come era concepito lo spettacolo chi se ne frega lo scopo di quello spettacolo era far sentire quell'aria per cui finita l'aria i due riprendevano il duello e ognuno uccideva chi doveva uccidere e abbiamo parlato del bel canto ma nel barocco pensate a Endel pensate a Vivaldi pensate a tutto quel repertorio lì la cosa è ancora più vera 8-10 minuti magari di aria fatta di di virtuosismi ho detto prima che col passare del tempo i compositori sono sempre diventati più specifici nelle didascalie che scrivono sulla partitura questa cosa è stata pensata dal compositore cosa implica questa cosa che il compositore ha scritto la musica per quell'azione per quella situazione scenica faccio un esempio visto che si parla prima di Bohème riferito a Bohème nel primo atto di Bohème Mimì entra conosce Rodolfo a un certo punto lei ha un mancamento sviene praticamente lui prende da didascalia quindi da partitura prende dell'acqua e le spruzza qualche goccia d'acqua sul viso per farla riprendere questa cosa è accompagnata da un pizzicato dei violini questo pizzicato dei violini è lì perché Puccini ha pensato che nel momento in cui Rodolfo spruzza queste gocce d'acqua sul viso di Mimì per farla riprendere ci sia il plin 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 dei violini e quindi se Rodolfo non fa quest'azione perché il regista ha deciso che in quel momento Rodolfo deve grattarsi il naso è il plin plin sotto non ha più nessun senso ora se questa cosa è vera e necessaria nel caso di un'azione fisica cioè nel caso in cui la musica descriva e accompagni una specificazione prevista dal compositore e in questo senso la musica si comporta un po' come si comporta la musica da film la musica di una colonna sonora immaginate quando la musica descrive non un'azione ma un sentimento e immaginatevi quando questa musica descrive un sentimento di un certo tipo è visivamente realizzata con i cantanti che esprimono i sentimenti completamente diversi capite che la musica stessa si trova a commentare o a raccontare una storia completamente diversa da quella che vediamo bene chiudiamo qui la prima parte di regie orrorifiche dove trovarle ci vediamo domani se ne avrete voglia naturalmente vi racconterò le regie orrorifiche che ho visto sia da spettatore che dal podio a domani